Informati bene, scegli La Padania come tuo riferimento quotidiano in edicola e online lapadania.net Abbiamo incontrato nei giorni scorsi il governo e i relatori per dare indicazioni su quelli che noi pensiamo siano gli emendamenti più importanti dal patto di stabilità al cuneo fiscale per le nostre famiglie e le nostre imprese. Nonostante tutto questo la commissione è completamente bloccata, ci sono continui rinvii e non si è riusciti ad affrontare neppure la problematica molto grave di quello che è successo in Sardegna e del disastro ambientale e dei fondi relativi al dissesto idrogeologico. Non ci è stato detto e specificato. Sappiamo però dove trovate le coperture. Le trovate, e qui mi appello all'etica della sinistra e del Partito Democratico. È etico trovare i soldi svuotando il fondo per le vittime e i reati dell'usura e della mafia. Cancellate i premi ai comuni virtuosi e responsabili schiaffeggiando gli amministratori e anche i vostri che si sono comportati responsabilmente in tutti questi anni e che amministrano per senso civico e non certo per una questione economica. Dimenticandovi delle situazioni di disagio sociale che vive questo Paese, che vivono i cittadini, i nostri cittadini. Parlo degli esodati, parlo dei cassi integrati, parlo dei disoccupati. Tutte parole che erano nel programma di questo governo. Parole ancora una volta andate a vuoto e concretizzate nei fatti in maniera diversa. Noi non siamo più in condizioni di continuare con questi livelli di spesa pubblica, soprattutto perché molta di questa spesa pubblica è improduttiva. Tutti questi contributi dati a non si sa bene a chi, anziché essere mirati o anziché, come diciamo noi, utilizzare tutti questi fondi per abbassare le tasse. Il cuneo fiscale, come si vanta questo governo, che loro hanno abbassato il cuneo fiscale, è irrisorio, fa sorridere perché si riempiono la bocca con un niente, che facciano veramente un taglio significativo veramente sulle tasse alle aziende. Grazie.